Abbiamo chiesto al Presidente Marsiglio di fare una riflessione rispetto alla necessità di stabilire la zona rossa nei comuni del Terramano, della provincia di Teramo, che sono in queste ore che hanno molti casi, quindi sono comunemente chiamati comuni dell'area del Valfino e conseguentemente anche Penne, perché sappiamo, i numeri ci dicono che in questa zona ci sono molti contagi sia all'interno del Terramano di Penne che all'interno di questi territori. Seppur rafferenti a due province diverse i territori sono attivi, noi riteniamo che in questo momento sia necessario chiudere con tutte le restrizioni necessarie questi territori per bloccare il prima possibile questo contagio che in queste ore prende piede maggiormente. L'ospedale di Pescara, l'abbiamo visto anche ieri, Rai 1 è in grossa crisi, è pieno di casi, siamo una delle province del centro-sud con più casi e molti provengono da queste zone o comunque ci risulta che anche i sindaci attraverso una conferenza stampa hanno chiesto questo intervento, quindi pensiamo che sia necessario per scongiurare il pericolo, almeno in questa zona, circoscriverlo all'interno di questa vasta area che riguarda appunto l'area dei comuni del Valfino e del comune di Penne.